A nostro avviso, noi progettisti dovremmo fare un po' più gruppo, un pochettino più squadra e riuscire a far capire ai clienti che la cultura del progetto ha una grandissima importanza, soprattutto incide molto sotto tutti gli aspetti, a partire dal budget che è un tema molto sensibile per i clienti. Io credo che la grossa responsabilità di noi architetti sia quella di rimettersi un attimo a studiare. Adesso stiamo costruendo molto sottoterra, è un inchino nei confronti del territorio che abbiamo, l'abbiamo talmente tanto massacrato che se noi architetti facessimo un attimo un passo indietro, non volessimo per forza lasciare un segno e cercassimo di spostarci un po' sotto, un po' di fianco, forse non sarebbe male. Lasciare un messaggio indubbiamente di conoscenza di nuovi materiali, nuove applicazioni e l'utilizzo di un materiale fondamentalmente povero che è laminato ma reso bello da tecnologie che Puricelli sta sviluppando costantemente, ricerca di decorativi, ricerca di immagine e migliorare il prodotto rendendolo anche un materiale adatto addirittura per l'esterno, per le facciate ventilate. Dietro ogni prodotto ci sono delle persone, quindi ci sono persone nelle nostre aziende, nella nostra azienda che i prodotti li studia, li pensa e cerca di produrli al meglio, ci sono persone destinate a venderli e ci sono poi gli utilizzatori finali, quindi i clienti finali ed architetti. Sicuramente anche tra gli spazi, tra un intervento e l'altro, ho visto appunto diversi professionisti che sono venuti al desk e hanno ammirato, toccato con mano tutti i nostri prodotti e insomma ne abbiamo approfittato per lasciare tutte le brochure del caso e invitarli comunque a una futura visita presso il loro studio. C'è stata molta affluenza, molti architetti e ingegneri e abbiamo avuto molte domande interessanti e pertinenti al nostro sistema. Abbiamo cercato di recepire quelle che erano le necessità progettuali degli architetti, degli interior designer e fornire delle soluzioni attraverso i nostri prodotti laminato HPL e Fenix. L'adesione e l'affluenza allo stand è stata ottima, devo dire, e l'innovazione che passa per noi attraverso il design e la prescrizione, quindi l'attenzione a chi fa progettazione, è stato veramente ben accolto. Grazie.